e passiamo ultimo ma non ultimo per importanza al presidente di accessibility days sauro cesaretti che tra l'altro ringrazio a nome di iwa di accessible you perché ci ha organizzato la piattaforma assieme a chris che è il nostro uomo tecnico che si occupa di queste tematiche e come sempre la realizzazione è una soluzione bella accessibile e fruibile da tutti quindi intanto ringrazio sauro per questo e ti lascio la parola lasciandoti un tema che è proprio legato alle accessibility day abbiamo parlato fino adesso di competenze di crescita di competenze ci sono anche delle domande su come eventualmente ci si può formare qualificare via dicendo e voglio lasciarti proprio la parola con il titolo che abbiamo scelto per il tuo intervento che è accrescere le competenze professionali l'esperienza e aggiungerei positiva di accessibility day grazie sauro a te la palla grazie roberto in realtà ringraziamento è reciproco da parte nostra è un piacere e un onore aver permesso diciamo dato il supporto a daiwa da accessible you per la realizzazione di questo meraviglioso pomeriggio dove dove ci sono stati contenuti veramente di altissimo livello altissimo valore accessibility days è un'associazione giovane molto giovane nata nel 2022 e diciamo a seguito di un evento che invece ha qualche anno in più perché noi abbiamo iniziato nel 2017 con lo scopo proprio di creare un momento di incontro di cadenza inizialmente annuale per far sì che figure professionali che in un modo o nell'altro portano un contributo per lo sviluppo di soluzioni in particolare noi ci occupiamo ovviamente di accessibilità digitale noi oggi abbiamo parlato probabilmente di accessibilità digitale e quindi questo momento d'incontro vuole voleva e vuole essere diciamo una possibilità per tutte quelle figure che ruotano attorno allo sviluppo di soluzioni che debbono essere accessibili e quest'anno diciamo l'accessibility day 2024 che si è tenuto a Roma il 16 e il 17 maggio eh ha avuto eh grazie diciamo alla partecipazione di tutti ma soprattutto al coinvolgimento di tutte le eh le realtà che hanno reso possibile l'evento in particolare eh eh i quasi cinquanta eh sponsor che ci hanno eh sostenuto e abbiamo avuto eh quattro quattromila ventuno partecipanti eh iscritti eh quattromila ventuno iscritti eh a a a differenza dei duemila 836 dell'anno dell'anno precedente questo ci fa ecco un immenso piacere perché significa che eh c'è attenzione verso il tema c'è ancora molto da fare e accessibility days eh con tutte le persone che ci eh che che ruotano attorno alla nostra eh realtà eh vuole essere proprio a fianco e a supporto delle aziende delle istituzioni per far sì che ci sia sempre più eh momenti di confronto di dialogo eh di condivisione per eh trovare soluzioni per sensibilizzare e per condividere esperienze difficoltà nel nell'affrontare e trovare soluzioni accessibili eh abbiamo parlato dell'importanza eh del coinvolgimento di eh delle delle verifiche del dei test ehm concordo pienamente no anche con quello che eh ha detto questo sabato poco fa eh sul sul coinvolgere eh utenti eh utenti esperti che sappiano dare ehm diciamo riscontri eh precisi su come poter risolvere eh le problematiche di di accessibilità e oltretutto eh altro eh altro aspetto importante eh accessibility days eh come diciamo sempre noi cerca di eh oltre che di parlare di accessibilità di condividere eh strategie di di creare momenti di confronto eh vuole anche comunque metterla in pratica ehm noi eh come 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 oggi eh siamo anche a supporto per creare eventi per creare momenti di condivisione che siano anch'essi accessibili quindi implementando la la diciamo la sottotitolazione realizzata manualmente eh per far sì che sia di 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 qualità eh l'interpretariato con una regia eh con una regia diciamo che sia in grado di gestire un po' tutto il flusso e questo ecco per dire che comunque siamo eh sempre a a disposizione a supporto per dare per aiutare chi chiunque voglia realizzare eh un evento tenendo conto di quelle che sono le necessità eh per renderlo accessibili siamo eh a disposizione anche per questo e altro aspetto comunque eh in questi ultimi anni eh soprattutto dal dal 2020 dove eh diciamo siamo siamo come tutti gli altri eventi eh siamo passati in modalità eh in remoto e eh questo ha anche eh in certi versi favorito la la l'espansione del dell'evento è un aumento esponenziale diciamo dei dei numeri di partecipazione eh oltre a questo eh oltre all'evento annuale comunque organizziamo eh webinar che informativi che siano diciamo eh utili per per sensibilizzare per dare informazione eh quest'anno in particolare eh pre-evento abbiamo eh organizzato dei webinar in particolare tre eh sono stati webinar in un format eh più esteso rispetto ai webinar tradizionali dove siamo andati proprio a parlare eh di di accessibilità nello sviluppo mobile nello sviluppo web e eh un escursus con diciamo eh un escursus sul discorso anche della della normativa quindi ecco eh questo per dire che siamo eh sempre attivi e a disposizione di tutte quelle realtà che hanno bisogno di momenti di eh di confronto sul sul tema e c'è sicuramente nei prossimi mesi eh vi invitiamo a seguirci sui nostri eh canali social attraverso la newsletter che sono i canali principali con cui eh potete tenervi aggiornati eh perché sono comunque in programma altri altri eventi eh sia sia realizzati da noi sia in collaborazione come come stiamo facendo eh oggi e grazie di nuovo a Roberto grazie a IWA e grazie ad Accessible EU per l'opportunità di di partecipare e soprattutto di di coorganizzare l'evento. Grazie, grazie Sauro, è rimasto ultra nei tempi, abbiamo ben otto minuti in più. Come abbiamo detto anche a livello organizzativo nostro interno, noi abbiamo messo un orario fino ai diciassette e trenta, però sapendo che tra l'altro c'è un evento questa sera che molti seguiranno, che è la partita che eh Italia Spagna ha tra l'altro sempre parlando di accessibilità, se andate anche a a consultare su Facebook il post di Rai Accessibilità vi diranno che la partita questa sera avrà i sottotitoli alla pagina sette 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 di Televideo e con il secondo canale audio eh di trasmissione eh potranno esserci le auto le audio descrizioni. Quindi anche in questo caso anche un evento sportivo come eh l'europeo di calcio effettivamente è inclusivo in questo caso grazie a Rai Accessibilità che tra l'altro eh sa è partner di Accessibility Day da da tempo. Collabora da tempo sì con noi con proprio con ehm con ehm 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 workshop che hanno trattato questi temi quindi come realizzare audio descrizioni, come le realizzano eh ovviamente sono eh diciamo un po' la 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 guida in Italia per quello che è è il mondo del dell'audiodescrizione, quindi anzi invito per chi non eh chi non ha mai seguito un evento audio descritto sottotitolato a sperimentarli, cioè non solo l'utente no che necessita del servizio ma anche per conoscere come vengono realizzati questi servizi di accessibilità che sono a dir poco preziosi. Grazie a tutti.